Eurotel Un grand hotel degradato da albergo di lusso a condominio abitato da personaggi che rappresentano una umanità italiana e straniera che tenta di resistere alla deriva delle rispettive esistenze. E' significativo che una situazione di questo tipo si verifichi a Merano, una provincia ricca e ordinata, e costituisca con altre situazioni a Pado, a Milano, a Roma, affrontate in altri film, un quadro nazionale di crisi drammatiche e del problema abitativo che riguarda italiani e immigrati. Qualità tecnico-linguistica buona, come è tradizione di quell'ottimo scuola-laboratorio che è Zelig, inevitabilmente la struttura è orizzontale perché le singole descrizioni dei personaggi fotografano una situazione statica e infatti i destini successivi di alcuni dei protagonisti sono riassunti alla fine con Didascalie. L'atmosfera creata da questo documentario credo che sia l'elemento decisivo di Eurotel. Vediamo in questo film una specie di viaggio nel tempo. Cioè la trasformazione che ha subito il nostro paese parte dal sogno degli anni 50, dove c'erano alcuni piccoli elementi che la pubblicità dava come un segno di lusso da raggiungere. Il film ci fa vedere oggi come questo grande hotel che era considerato un luogo per pochi sia oggi diventato una casa abitata da alcune persone che non avendo trovato altro posto per vivere sono andate ad abitare là e sia in questo percorso sia nei destini di queste persone che vengono raccontate nel film vediamo come sia stato così difficile il passaggio di questi ultimi anni e come gli italiani si siano accorti che il giocattolo lusso si rompe molto facilmente. Eurotel è la fotografia di un microcosmo molto particolare interessante per le storie di vita che racconta chiuse in questo glorioso albergo diventato un condominio internazionale lo sguardo però è distante, il racconto un po' statico. Di Eurotel non dico nulla perché è prodotto dalla Zellig che è una scuola di cinema in cui io insegno e quindi si tratta di miei studenti per cui conosco bene i pregi e difetti del documentario e preferisco non esprimermi. È un documentario tradizionale con interviste e foto di repertorio mi sembra un compitino corretto, tra l'altro è un film che nasce da una scuola il tema non è entusiasmante.